Sono trascorse poche settimane da quando Valentino Rossi ha dato l'addio alla MotoGP ma ecco che torna a stupire fan e tifosi con un nuovo e importantissimo annuncio, il motociclista diventa papà per la prima volta Gli ultimi anni per Valentino Rossi sono stati davvero molto intensi da vivere per il motociclista, sempre in sella alla sua moto pronto a conquistare un altro podio Da qualche tempo a questa parte al suo fianco anche la bellissima Francesca Sofia Novello, nota modella e influencer che nel 2020 ha conquistato anche il pubblico dell'Ariston durante il Festival di Sanremo Il 2021, quindi, sta per riservare un'altra importantissima gioia a Valentino Rossi, ovvero l'arrivo della sua prima figlia e quindi la nascita di una bellissima famiglia al fianco della Novello Valentino Rossi, vita stravolta e bene si è stato un anno ricco di grandi emozioni per Valentino Rossi che solo poche settimane fa ha detto addio alla MotoGP A dare l'annuncio è stato lo stesso motociclista che in occasione di una recente conferenza a stampa ha dichiarato, credo che negli sport i risultati facciano la differenza Penso che sia la strada giusta È stata difficile perché avrei l'opportunità di gareggiare nel mio team assieme a mio fratello, mi sarebbe piaciuto ma va bene così Abbiamo ancora metà stagione, credo sarà più difficile quando si arriverà all'ultima gara, non posso lamentarmi della mia carriera Dall'anno prossimo la mia vita cambierà. Non correrò con la moto, una cosa che ho fatto più o meno per gli ultimi 30 anni, è stato molto, molto bello L'avventura più bella però, è già cominciata per Valentino Rossi così come lui stesso ha raccontato attraverso un posto sui social Leggi anche trattino maggiore Leggi anche trattino maggiore Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello presto genitori con grandissima sorpresa per i propri fan Ecco che Valentino Rossi ha fatto irruzione nella propria pagina Instagram pubblicando dei dolcissimi scatti che lo ritraggono al fianco di Francesca Sofia Novello con in mostra il suo bel pancino Valentino Rossi, felice come non mai, nella sua pagina Instagram annuncia così la dolce attesa della prima figlia, dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta Aspettiamo una bambina Aspettiamo una bambina Aspettiamo una bambina